Sì, è bella, vai, vediamo! Oh, ragazzi, oh, che cos'è? Ci è un mercato generale? Insomma, sta parlando la maestra con la... Ancora! E che cos'è? Un po' di attenzione. Dunque, dicevo, c'è la possibilità di prendere, di comprare una foto con pochi spessi. Lo so che c'è la crisi, che non so, vi volete comprare le rosette, le sigarette, qualcuno... Ma una fotografia, ed è... Perché voi nel tempo, quando diventerete uomini e donne, prenderete la fotografia e direte, Uh, guarda! Questo è Piero! Ehi, dove sto? Dove sto? Un po' di... Questo è Piero che adesso fa il notaio. Questa è Ivana, che adesso fa l'avvocatessa. E poi c'è quest'altra qui, Dana, che fa la dottoressa. E questa è la professoressa? Che adesso è morta. Guarda! Guarda! La faccia è pronta! Non so perché... Stai, sei venito sopra il nome! Stai, sei venito sopra il nome! Stai, sei venito così! Non ci sapevo! Te devono ammazzate così! Ma no! Qua c'è stata la sfatica in basso! La fotografia!